Ma in fondo si uccide per sport, per la triste gloria dei trofei. Finché non è riconosciuto in pericolo, si può uccidere l'animale selvaggio e metterne in mostra le spoglie. A Denver, un deposito federale conserva gli animali sequestrati sul territorio degli Stati Uniti. Migliaia di soprammobili, vestiti, accessori, medicine strappati al mondo vivente. È un triste inventario che racconta il possesso, la crudeltà, il dominio. Trentamila anni dopo Chauvet, Denver è una nuova grotta, ma stavolta le sue pareti mi raccontano un'immensa follia, la mia.